C'è un'altra cosa che si tratta di un'altra cosa Proviamo, proviamo a capitare nella stessa... Allora, quindi Multiplayer Yes Quick Match Andiamo Vado Scorpion, West e... 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 No, niente Kaoyang, West e... Rientra che io li sto cercando Allora, quando tu... Sì, arrivo Vai, vai Dottor Libria! Uuuuuh Dai, dai, dai Se sono tipo 3-5 tentativi ogni volta siamo a posto Sì, però siamo soltanto in 2 Si spacca lenti io No... No, no... E' come... Siamo putti a capo A sti punti lo facevamo privato, scusami È proprio difficile adesso Vediamo Non è no Perché ci sono i boss improponibili Secondo me la stessa cosa, è sempre tarato per 2 Lo so C'è solo che io ieri ho giocato con un tipo Mi hanno spaccato il culo Il tipo era a livello 20, eh Però... Ok E' talato ai livelli Io qui sto giocando con un... Mitraietta giocattolo probabilmente Sì Vado a prendere la cassa Quindi se lo dobbiamo prendere entrambi Top Titanium strong box Perchè non siamo più in corpo Quindi ognuno fa per sé qua Potenzialmente se siamo in corpo ma... Chissà se sono buone ste armi Eh sì, il culo è quello Trovate le armi forti Questo gioco è... E' una... E' una facchia Si diverti e basta Ok, so per certo che questa era più forte Dov'è il VIP? Eh, guarda, io gli vedo la vita Sì? Allora, no, sono io No, guarda in alto a sinistra Vitto Sì, 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 hai visto Top Ora devo io trovare un'altra faccenda Oh, il VIP Scappavi di qua Sono all'elicottero tipo Gigi, hai sbloccato già Sti cosi senza dover togliere la vita al VIP Sì, VIP, seguimi Follow me Ma io dovrei essere un curatore ma come cazzo curo? Dovresti prendere la 1 e lasciare tipo i pacchetti di vita Oh Fighissimo Se ti serve C'ho tutti i miei 4000 HP Oh, ma dov'è il VIP? Esatto Posso sparare al VIP? Lanci la cosa alla vita Vediamo se... non ne ho più Ah, qualche p***o schifo Stiamo aspettando C'è un'altra targhetta Se noi non ci muoviamo messo la targhetta Cosa bisogna fare? Percazione Ah, era qua che dovevamo aspettare Davvero? Cos... Ah, 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 ah Che schifezza Quanta vita ci avete con cicci Sì, infatti sti cosi sono squilibrate rispetto al resto Sono liberi Sono metà cyborg, sono metà zombie Che c***o Bestia, oh! Via Piazza pulita Let's get her out of here Voilà Top Tutto OK Uh, box Super raro Un'altra arma di quella, un'altra shotgun Bestia Qui? Devo vedere quale è migliore Cozzo, ma non ho dato una pistola che è tipo dieci volte meglio la mia Buono Questo Rosello Quattromila buoni In Italia quattromila E questo La proteggiamo Ci mettiamo il Il Piercing Tutto il piercing ci metto Non ci sono due a proteggarlo Ok C'è un contratto, vediamo se riusciamo a farlo Contracts avaliable Ehm Ok, dobbiamo killare tutti gli zombie Piazza, mi piace Cazzo duro, lo sto facendo alla stanza, ti invito Ok Dimmela E L X È cambiata F K K Ho capito Questo è un random per anno Cioè, c'è tipo una traduzione Per anno, mese, giorno, ora L'ora L'ora no Perché sarebbe rimasto uguale anche quello Qui dobbiamo fare quante più kill boss Dividiamoci così non ce le rubiamo Cosa gg? Dividiamoci così non ce le rubiamo Però, cioè, dove sto andando io non c'è una sega Bestia Ma nessuno, eh Cioè, non espo uno a uno E' di qua Si tutti qua Sta arrivando Scendo qualche cura, schifo, con opa B raccoltto B raccoltto B racconto Sono lì Hum Cosa Cosa barata cazzo di larva quanto sono fastidiose quelle larve mamma mia lo dono bene, grazie there we go 6 su, più o meno dove eri prima su qui qualcosa qui qualcosa da sparare c'è mi deve vedere in terra qua cos? mi deve vedere in terra dove sono io a meno vabbè dai, è quasi perfetto eh sì, è considerato che siamo due in meno oh beh i vtroopers open box ho trovato un altro fucile figo oh, un elmetto ma io vorrei delle difese anch'io there we go skills skills ciao 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 ciao